Ciao a tutti, sono Matilde, cuoca e atelierista a Pausa Atelier dei Sapori e oggi sono qui per proporvi una tisana. Ma voi sapete che cos'è una tisana? Oggi scopriremo insieme quanti gusti, sapori e odori può avere una bevanda calda. Gli ingredienti che ho scelto oggi per voi sono scorza di limone, scorza d'arancia, potete utilizzare anche quella del mandarino della clementina, radice di zenzero, chiodi di garofano, cannella, miele e un po' di cacao in polvere. La nostra ricetta sarà per quattro persone. Per prima cosa bisogna prendere un pentolino e metterci dentro un litro d'acqua fredda. Poi andremo ad aggiungere un po' di scorza di limone, un po' di scorza d'arancio, un po' di zenzero, la radice, un paio di chiodi di garofano e un po' di cannella e mettiamo sul fuoco. Appena raggiunge il bollore spegniamo e lasciamo in infusione per 20 minuti. Passato il tempo di infusione possiamo aggiungere un po' di miele, un po' di cacao e mescoliamo bene. E ora la nostra tisana è pronta da gustare. A casa se volete provare a sperimentare altre bevande potete utilizzare altri ingredienti, altri spezie, altri frutti e perché no, dargli anche un nome. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!